Oggi parliamo di Lady Vendetta Don 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 Ma che bella è questa edizione Va bene vi faccio vedere l'edizione anche se non la mette a fuoco Perché è un grandissimo Ragazzi è meravigliosa Devo farvela vedere per forza Sì la luce è sparata in faccia Devo farvela vedere per forza Perché è meravigliosa E poi perché appunto Molto sofisticata Qua c'è questo fantastico cane La silhouette di un cane Che è un mezzo cane mezzo slitta E qua sotto C'è Ah sì è un cellulare Un cellulare con Dei piccoli Ciondolini attaccati Vi faccio vedere anche sotto Guarda ciò che ci sono C'è una Una specie di poster Il librettino Con dentro un sacco di cose belle scritte E la cartolina Questa ti piacerà Oh scusa ci ho messo il dito sopra Questa ti piacerà parecchio Tu che sei amante dei poster Comunque l'edizione è molto bella Lo dicevo L'altro giorno Sembra Talmente bella Che la si potrebbe usare Come quadro Vedete Questa cosa è da mettere Tipo Qua c'è quella dell'altro film Mister Vendetta Ne abbiamo parlato l'altra volta Questa non ve la apro Purtroppo mi manca Old Boy Mi manca Old Boy Di questa collana qua Sto cercando di capire Se Come e quando Comprarmelo Perché veramente ragazzi Questa è una trilogia Meravigliosa Per chi non lo sapesse Si chiama Trilogia della Vendetta Si chiama Trilogia della Vendetta Ma non è stata pensata Inizialmente Come una trilogia Cioè Park Chan-wok Ha fatto Mister Vendetta Poi Gli è arrivato un altro soggetto Che gli piaceva Che aveva come tema La Vendetta Che era Old Boy E ha deciso Di farlo Lo stesso Anche se era una ripetizione Perché ha detto Però cazzo Soggetto è bello Andiamo avanti Quindi un altro film Sulla Vendetta E poi alla fine Ha deciso di concludere Con un film Come appunto Lady Vendetta Ovviamente Ragazzi è un film Meraviglioso Ma veramente Meraviglioso Sono stati Masterizzati In 4K Vedi Queste edizioni Hanno Il Blu-ray E il 4K Quindi se tu hai Il lettore Solo Blu-ray Te li compri E poi Quando avrai Il 4K Te li guardi In 4K Si vedono Da Dio Sono una meraviglia Non tutti i 4K Che mi mandano Si vedono bene Però questi Si vedono veramente bene Sono veramente Una meraviglia A me sono piaciuti In maniera crescente Lady V primo Old Boy secondo E Mr. Vendetta terzo Guarda Io ho provato A mettermi lì E dire Qual è quello Che preferisco Ma alla fine Penso che Non mi importa Più di tanto Cioè Li vedo come Veramente un grandissimo Regalo Sono stra belli Ognuno racconta Allora Per un certo verso Raccontano la stessa cosa Ma in modi diversi E con elementi diversi Quindi Non lo so Alla fine Non ha tanto importanza Allora Vediamoci il trailer Non vi dico molto Sulla trama Perché non voglio Entrare troppo Nello spoiler Però chi l'ha già visto Poi saprà Che riferimenti Sono Quelli che farò C'è una ragazza Molto Molto difficile Da capire all'inizio Perché Il film È raccontato In modalità Puzzle Cioè Ti viene dato Un pezzettino Di storia Ogni volta Quindi All'inizio Ti sembra veramente Di non capire un cazzo Quasi ti viene voglia Di mettere in pausa E dire No adesso lo rivedo Perché forse Ho perso un pezzo No no È fatto apposta così È fatto apposta così E piano piano Come Si metterà a fuoco La storia Piano piano Perché appunto Ogni pezzettino Ci darà La visione completa Di ciò che è accaduto All'inizio Noi sappiamo Che c'è questa ragazza Che ha rapito Un bambino E L'ha ucciso Ed è finita in galera Per questa ragione Piano piano Scopriremo Che Che cosa è accaduto Come è accaduto E E dove Voleva andare A parare il film Un po' come anche Negli altri film Ma forse in questo caso Addirittura Io ci ho visto Molto più simbolismo Rispetto agli altri Agli altri film Ci sono delle cose Molto interessanti C'è una famosa scena Del cane Per esempio C'è questo uomo Che ha la faccia Da cane Scusate Questo cane Che ha la faccia Da uomo Perdonatemi Questo cane Che ha la faccia Da uomo Ma che è anche Una slitta Da neve In questo Luogo Pieno di neve Ora io non vi dico Che situazione è questa Perché sarebbe Spoiler per chi non l'ha visto Però Rappresenta Già lì C'è tantissimo simbolismo C'è tantissimo simbolismo Perché Chiaramente Se avete visto il film Sapete Chi è quell'uomo lì Tra l'altro Interpretato dall'attore Che è protagonista Di All Boy E c'è Succederà qualcosa Che vi farà capire Il Significato del sogno Succederà qualcosa All'uomo cane La neve Simbolo di purificazione Vi farà Chiaramente Se voi la leggete Da questo punto di vista In quella scena lì Capite Che quella scena lì Rappresenta Una volontà di purificazione Quindi tramite un certo atto Si vuole andare a purificarsi A rimettere a posto le cose E poi vedrete anche Alla fine del film La neve Che rappresenta appunto Sempre la purificazione Ma ci sono tantissimi simbolismi E cose Di questo tipo L'ho trovato molto più Carico di simbolismi Rispetto Magari a un Mister Vendetta All Boy E chiaramente Il terzo film Quindi lui è maturato Anche Per cui magari Ha aumentato Certe caratteristiche Stilistiche Che gli piacciono La cosa La cosa Veramente molto Divertente Dire di vendetta È proprio la struttura Della sceneggiatura A puzzle Che Ti aggancia Piano piano All'inizio Senti quasi Un po' Di difficoltà Ma appunto Con questo meccanismo Ti aggancia Sempre di più Quindi È un escalation Di curiosità Perché tu a quel punto Una volta che hai iniziato Il lavoro Di ricomposizione Non puoi fermarti Hai bisogno Ogni volta Di sapere Di più Ben scritta Ma anche I dialoghi Sono molto belli Interessanti Da un certo punto Di vista Perché Spesso Vengono Create Delle situazioni Di dialogo Tra personaggi Su più livelli Su doppio livello Quindi È una cosa Che vedo raramente Nei film Ma quando c'è Mi piace molto I protagonisti Si parlano E nello stesso Colloquio Si affrontano Due discussioni Nello stesso tempo Quindi I protagonisti Parlano Poi passano A un altro discorso Poi tornano Al discorso precedente In alternanza Portano avanti Due Temi Importanti Per Il proseguimento Della trama Quindi sono comunque Due parti di storia Che devono Che vanno in parallelo Quindi questi dialoghi Sono estremamente divertenti Sono estremamente Intrattenenti Perché appunto Svelano Due cose Nello stesso momento Non è che I protagonisti Si incontrano Parlando di una roba E ok Poi in un altro momento Ne parlano di un altro No Nella stessa scena Svelano più cose Perché parlano Di due argomenti Nello stesso momento Questo l'ho trovato Molto Molto Intanto è difficile Comunque Scrivere Dialoghi così Anche interpretarli Per cui è comunque Una cosa Molto Molto Figa E poi È anche molto Divertente E soddisfacente Per chi guarda Per chi segue La storia Come In tutti i film Di Park Chan Walk Ci sono Un sacco Di colpevoli Cioè Tante persone Nelle sue storie Hanno La La colpa Di qualcosa Hanno Ce l'hanno All'inizio 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 Diciamo Personaggi Che invece Non ha nessuna colpa È totalmente Privo di colpe È innocente Al cento per cento Nel In Conosciamo anche Come bambina In un certo punto Del film E in Mister Vendetta È il bambino E gli altri bambini Quindi il bambino L'infante Come Figura Innocente Che subisce Ed è anche Quello che L'unico che subisce Ma non fa subire A nessuno Quindi È la figura Dell'innocente Che è perenne Nella trilogia Della vendetta L'innocente Vero Perché poi Noi abbiamo Dei protagonisti Che sono Sì Per cui Simpatizziamo Per cui Proviamo pena Perché hanno subito Però sono anche Coloro che Fanno subire Quindi colpevoli O perché Applicano una vendetta O perché La loro vendetta Si porterà Delle conseguenze Ancora più brutte Eccetera Eccetera Ci sono anche Due temi Che ritornano Che sono Che sono presenti Negli altri film Che sono due temi Molto Intriganti Che sono Il rapimento Tutti e tre i film Contengono il rapimento Oppure qua C'è il rapimento Ve l'ho detto All'inizio Si scopre che lei La ragazza Ha rapito un bambino Nel film Mister vendetta C'è un rapimento Di una bambina Nel film All boy C'è un rapimento Di un adulto Quindi c'è sempre Il rapimento In tutti i film C'è il tema Della prigionia Quindi dell'essere Reclusi Ma non solo C'è anche il tema Della prigione Soprattutto In Lady vendetta In All boy C'è il tema Della prigione Inteso come Prigionia Proprio Ci sarà una sorta Di appunto Di prigione Pittizia Ma che comunque In tutti gli effetti È una prigione Perché ci sta Tanti anni E Invece In Lady vendetta Il tema della prigione È molto Più amplificato Perché appunto La protagonista Finirà in prigione Conoscerà altre carcerate Si instaurerà Un rapporto Con le carcerate È molto presente Questa cosa Da questo punto di vista I film sono molto simili Come Come tematiche Il Il tema Alla fine Il tema È annunciato Il tema principale È annunciato Ed è sempre La vendetta Che c'è in tutti e tre I film In questo caso Non vi spiego Perché c'è la vendetta Perché qualcuno di voi Potrebbe non aver visto Il film In questo caso C'è una Una particolare aggiunta Nel tema della vendetta Perché la vendetta È veramente il tema focale No? In questo caso C'è Il tema della vendetta Costruita Preparata Come se fosse Un evento religioso Come se fosse Un grande evento Un evento Un evento Che richiede Sfarsosità Bellezza Questo è molto figo Rispetto agli altri film Chiaramente negli altri film Non era necessario In questo film Ci sono le condizioni Per raccontare la vendetta Come qualcosa Che va Celebrato Come se fosse Un funerale O come se fosse Una messa Un È un momento sacro Quindi ci saranno Delle cose Che saranno curate A livello estetico Da parte del vendicatore Che devono essere Tutte fatte In un certo modo Perché deve essere Tutto perfetto Per in qualche maniera Ricevere un perdono Sistemare le cose Tra virgolette Diciamo C'è C'è questa C'è questa volontà In questo tema Della vendetta Torna I grandi dubbi Perché lui Che cosa fa Negli altri film E qua lo rifà Tantissimo Qua lo fa In modo ancora Più giocoso Lui ti dice Ok Questo personaggio Sta andando A vendicarsi Però ogni volta Che Che va avanti Nella storia E succedono Delle cose Lo spettatore Non ha la sensazione Che quello che sta accadendo Sia giusto O sempre giusto Ogni volta Il regista Ci fa chiedere Ci pone dei dubbi morali È giusto Vendicarsi Con questa persona Così È giusto Vendicarsi Adesso qua Poi rischio di entrare Un po' Nella parte spoiler Perché ci sono C'è una scena finale Di vendetta Diciamola Chiamiamola così Anzi La chiamerei Di esecuzione Che è molto Grottesca È molto È straziante Ma anche Allo stesso tempo Grottesca E Che ci pone Appunto Quella domanda Del Ma è veramente Necessario Cioè È veramente così Che devono andare le cose Per finire nel giusto O Come succede poi Anche negli altri film Oppure Non ha senso Tutta questa vendetta Io Ci vedo Io quando vedo I film di Parachian Walk Penso sempre È veramente Un film Che Che ti punzecchia No Ti dice Da una parte Ti dice Sì è giusto Dall'altra ti dice Ma sei sicuro Che sia giusto Che il personaggio Vada avanti così A fare questa cosa E quindi Hai continuamente Continuamente Il dubbio morale Che la vendetta Non sia La strada giusta Ma anche il contrario Di questa affermazione qua Quindi È uno dei motivi Per cui mi piace tantissimo Questo film Ma Anche gli altri È che ti costringe A riflettere in continuazione Ma anche dopo Anche adesso Mentre ne sto parlando Io non saprei dire Che cosa penso esattamente In termini morali Di ciò che accade Cioè se Sono d'accordo Con quello che fa La protagonista Se sono d'accordo Con quello che fa L'antagonista Della protagonista Ti fa sentire In colpa Per l'empatia Che provi Per il protagonista Esatto Sì quello Ciao Luissita Benvenuto Quello Poi tu ti senti In empatia Anche con I genitori Dei bambini Scomparsi Ti senti In empatia Con la ragazza Protagonista Del film Ti senti In empatia Un po' Con tutti Un po' Con tutti E c'è una C'è una riflessione Che ho fatto Proprio su sto discorso Dell'empatia Dell'empatia Del chi è buono Chi non è buono Perché poi alla fine Il punto qual è Che In tutto In tutto il film Come al solito C'è solo Un elemento Un personaggio In questo caso Sono un personaggio Multi Perché sono più bambini Che sono le vittime Senza colpa Sono proprio Gli innocenti Sono solo loro Tutti gli altri Sono tutti In qualche maniera Colpevoli Di qualcosa Di negligenza Di egoismo Di cattiveria Di vendetta Questo mi fa riflettere Su una cosa Che Parchan Walk Ha voluto fare Che è un po' Metacinematografica Lui nell'ultimo film Lui nell'ultimo film Ha voluto Prendere Gli attori Degli altri due film E a ogni attore Gli ha fatto fare qualcosa Gli ha dato Un ruolo Piccolo Grande che sia In Lady Vendetta Quindi gli attori Di Mr. Vendetta E Oldboy Sono anche Lady Vendetta Però Si scambiano Si scambiano I ruoli Chi era buono Tra virgolette In Oldboy Cambia ruolo Chi era Innocente O comunque Insomma Rimescola le carte E secondo me In questo contesto Del Nessuno è pulito Tutti prima o poi Sbagliano Tutti prima o poi Sono i cattivi Di qualcuno Rimescolare anche Le carte In termini Di chi interpreta Chi Quindi riprendere Tutti gli attori E ributtarli Nel calderone E ridargli i ruoli È un po' Come Un po' Come dire A livello proprio Extra film Quindi mettere Fuori dal film È un po' Come dire Ciao Iliose Benvenuta È un po' Come dire Tutti sono Possono essere colpevoli O diventare colpevoli Non esserlo E poi diventarlo Ciao Andrina Benvenuta Possono diventare colpevoli In un secondo momento Quindi Ci ho visto Ci ho visto Questa cosa qua Fondamentalmente Il Quello che c'è da dire Sul contenuto Del film È questo È questo Cioè È Lo stesso Più o meno Contenuto Che c'è Negli altri film Ma qua In modo Strutturato Appunto Mentre negli altri film È qualcosa di molto più Istintivo E caotico Quindi è come Sembra quasi veramente Un film di chiusura Di questa Di questa trilogia A parte appunto I contenuti Di trama Di motivi Ovviamente Che vi devo dire Ragazzi Cioè Esteticamente È Meraviglioso È veramente Stupendo Non È imbarazzante Parlare Di tecnica Di fronte A un maestro Del genere Questo Non è un Un regista Qualunque Questo è un regista Al di sopra Di tantissimi registi Questo è un maestro Del cinema Che fa qualcosa Di meraviglioso Esteticamente Ogni inquadratura È stupenda Ogni Cosa è calcolata Nei minimi dettagli Anche se in realtà Io ho visto Che comunque Lui è uno Che Anche durante Le riprese Comunque fa Delle scelte Dei cambiamenti Quindi È una persona Che Lavora tanto Anche Durante la lavorazione Quindi non è Tutto sempre Cioè Probabilmente È tutto Molto preparato Però Lui è anche Aperto A dei cambiamenti L'edizione Questa qua Questa È veramente Strapiena di extra Trovate Veramente Dozzine Di interviste Ai protagonisti C'è il backstage C'è un sacco di roba Veramente stupendo E gli attori Sono Boh ragazzi Io li amo tutti Cioè Sono tutti stupendi A parte Quanto sono Belli Lo dico proprio In generale Per non fare un discorso Sessista Perché sai Sì Cioè Le donne Sono veramente Belle Ma anche Gli uomini Sono veramente Tutti Estremamente Belli Ma quanto Sono belli I coreani Ragazzi Sono fighi E' chiaro Che loro Sono attori Sono un po' Più belli Della Media Però Sono veramente Stupendi E sono attori Eccezionali Ve ne rendete Conto ancora Di più Quando Ovviamente Vedete Il film In lingua Originale E Quando Vedete Il backstage E Vi rendete Conto Di come Sono capaci Di entrare Nella parte In un contesto Così Comunque Di caos Perché i set Sono Costellati Di persone Eccetera Eccetera